In questo periodo stiamo portando questa attività dal grande valore sociale che si chiama Diamoci una scosta, è un'iniziativa a livello nazionale che ha coinvolto migliaia di professionisti e rivolta fondamentalmente alla sensibilizzazione della cittadinanza in materia di rischio sismico e soprattutto per conoscere quali sono le opportunità concesse dalla normativa in materia di interventi di rizzi, in particolar modo del sisma bonus che consente di recuperare le spese di un intervento di rizzi fino all'85% dei costi da sostenere. Per questa iniziativa Diamoci una scosta nella quale hanno collaborato insieme ingegneri e architetti, sono stati coinvolti 80 professionisti che hanno avuto a disposizione una formazione dedicata di oltre 10 ore, tenuta da esperti a livello nazionale ed internazionale e abbiamo ricevuto da parte dei cittadini richieste di oltre 70 visite tecniche e informative gratuite che 30 professionisti in campo in questo periodo nel mese di novembre stanno svolgendo. C'è possibilità fino al 20 novembre per richiedere la visita tecnica e informativa gratuita e attraverso il sito www.giornataprevenzionesismica.it attraverso una compilazione semplice con semplici dati è possibile farne richiesta.